Escono sia dal gruppo del Consiglio regionale che dal partito e aderiscono al gruppo misto come componente di maggioranza tre consiglieri regionali della Lega, Simone Angelosante, Antonio Di Gianvittorio e Emanuele Marcovecchio. Una decisione ragionata e molto pesante, dopo settimane di contrasti e di mancanza di dialogo, in un momento cruciale per l'Abruzzo. Dopo l'autosospensione in netto dissenso con la gestione del partito in Abruzzo, adesso l'uscita dal partito proprio da parte di lei che ha fondato la Lega in Abruzzo nel 2015. Le motivazioni sono tante, un documento che non doveva uscire, però ad oggi qual è la posizione che vi spinge a fare questa azione? È una posizione di dignità. Noi avevamo chiesto semplicemente un colloquio. Abbiamo chiesto un incontro programmatorio per il bene della Lega, contro nessuno, ma a favore della crescita della Lega. Si è ritenuto di non dare ascolto a questa nostra richiesta. Noi abbiamo una dignità da mantenere e alla quale teniamo tantissimo. E quindi oggi usciamo dalla Lega con molto dolore, perché la sento in parte una mia creatura qui in Abruzzo, ma non poteva esserci una soluzione diversa. Una decisione che vi porta verso quale sponde, verso quale rive? Forse la formazione di una nuova realtà politica o cosa? L'ho già detto prima, noi non vogliamo fare proselitismo, noi non abbiamo accordi con altri partiti politici, noi non abbiamo accordi con movimenti civici, che se ne dica. Noi siamo noi, proponiamo la nostra offerta politica. So che in tanti anche consiglieri attualmente presenti in Regione Abruzzo c'è la condivisione di questa nostra iniziativa. So che ci sono decine, centinaia di amministratori che condividono questa iniziativa, ma sarà il tempo a decidere, sarà il tempo a vedere quale saranno le evoluzioni. Un messaggio alla base del partito? Ripeto, non voglio fare proselitismi, non vogliamo creare difficoltà. Un partito che amo profondamente, dico alla base del partito di restare dove sta, ma di farsi sentire con forza per far valere le proprie ragioni e le ragioni degli abruzzesi.